Dottoressa Chiara Rodovici, ci puoi illustrare i sete chakra? Certamente! I chakra sono sette prevalentemente. Adesso io faccio un escursus veloce di questi centri cercando di essere sintetica. Partiamo dal primo chakra. Il primo chakra si trova nella zona perineale e praticamente è strettamente collegato alla terra, infatti come elemento alla terra. Prevalentemente come scopo è quello di permettere all'uomo la sopravvivenza puramente fisica. Quindi la persona è orientata a soddisfare i suoi bisogni primari, quindi cibo, rifugio come la casa eccetera. Quindi esclusivamente legata alla sopravvivenza. Ecco perché il contatto anche con la terra e possiamo considerare il primo chakra come le nostre radici, quindi comunque proprio la solidità. Ogni chakra ha anche un senso collegato e in questo caso il senso collegato è l'odorato. Il colore, perché anche ogni chakra ha un colore, è il rosso. Ecco proprio il rosso quindi dell'energia, della sopravvivenza. Ci sono anche delle parti del corpo connesse generalmente con i chakra. In questo caso abbiamo chiaramente tutte le ossa, quindi l'apparato scheletrico, anche i denti, però anche parti del colon e la prostata, anche se non sono collegate con l'apparato scheletrico. Però ecco non c'è un perché. Ci sono anche parti magari non correlate. Se il primo chakra è disarmonico o disfunzionale, la persona può vivere stati di stanchezza continui. Quindi essere sempre molto stanca, molto scarica, sia a livello fisico che emotivo. Tenderà a vivere la vita non come un piacere, ma come un peso. Quindi chiaramente soffrirà molto di questa cosa. Avrà sempre un grande senso di preoccupazione e di insicurezza. Questo può provocare, come abbiamo detto, eventuali malattie psicosomatiche, come per esempio stati di osteopatie e osteoporosi, perché appunto collegate alle ossa, e mal di schiena frequenti. Quindi come l'avere un peso sulla schiena e mal di schiena rappresenta proprio spesso poi si sta curvi, quindi questo peso, questa fatica. Fratture ha anche osse e problemi anche al colon, insomma, quindi chiaramente all'intestino. Poi abbiamo il secondo chakra. Il secondo chakra si trova invece praticamente due dita sotto l'ombelico e in questo caso il colore è l'arancione, è strettamente legato alla creatività, alla sessualità, al piacere, quindi anche alla sensualità e alle emozioni in particolar modo. In questo caso l'elemento correlato è l'acqua, invece il senso collegato in questo caso è il gusto. Le parti del corpo connesse a questo secondo chakra invece sono quindi chiaramente gli organi produttivi, quindi per esempio gonadi e ovaie, ma anche i reni e la vescica. Problemi a secondo chakra, quindi un chakra al secondo chakra disarmonico può portare a un blocco della sessualità, della sensualità e del piacere nella persona che è da ricollegarsi comunque di solito generalmente a problemi avvenuti nella fanciullezza, cioè il bambino fin da piccolino ha sofferto di carenza, di affettività, intesa proprio come però in questo caso carezze, abbracci, quindi di questo tipo, quindi lo riporterà anche nella vita adulta. Malattie psicosomatiche che si possono creare e possono essere stati appunto problemi a livello di vaginite, vaginismo nella donna, un fibroma alle ovaie all'utero, problemi alla prostata per esempio con l'uomo, anche stati di impotenza e così via. Passiamo poi al terzo chakra, il terzo chakra è di colore giallo, è strettamente correlato alla nostra energia, alla nostra forza, al nostro potere personale, al nostro sole, è il nostro plesso solare ed è correlato anche quindi all'autostima e con questo chakra noi cominciamo a entrare in relazione con gli altri, oltre che con il mondo materiale, quindi può essere un chakra abbastanza diciamo difficoltoso da avere e armonico e perché qui noi troviamo proprio la nostra vera identità sociale e personale. Come elemento in questo caso c'è l'aria, chiedo scusa il fuoco, come senso invece c'è la vista correlato e quindi anche parti del corpo connesse saranno prevalentemente il sistema digestivo, milza, cistifellea, fegato, pancreas, ma anche il sistema nervoso autonomo. Problemi al terzo chakra possono creare uno stato di depressione e di avvilimento nella persona. La persona non si sente mai all'altezza delle situazioni, quindi avrà stati profondi di insicurezza, di disagio e cercherà continuamente l'accettazione degli altri per sentirsi parte di una società e comunque per sentire di avere un ruolo. Eventuali malattie psicosomatiche o disagi a livello fisico che si possono creare possono essere appunto per esempio gastriti, ulcere e anche l'epatite. Passiamo al quarto chakra. Il quarto chakra è molto importante perché il quarto chakra è diciamo un po' un trè d'union tra quelli che sono i tre chakra inferiori che sono prevalentemente fisici ed emotivi e dai tre chakra superiori che sono invece più spirituali, più mentali. Quindi funge da veramente da unione ed è un chakra importante perché il chakra del cuore, il chakra dell'amore incondizionato, è di colore o rosa o verde, come elemento ha l'aria, come senso collegato in questo caso invece c'è il tatto e con questo centro noi entriamo in piena risonanza con gli altri, quindi in relazione con gli altri è la sede dei nostri sentimenti, quindi la capacità di entrare in relazione, in empatia, in sintonia con gli altri. Parti del corpo connesse chiaramente sono la parte del cuore, del torace ma anche il sangue e la parte bassa dei polmoni. Se ci sono problemi in questo chakra, quindi se il chakra è disarmonico chiaramente noi avremo difficoltà a entrare in relazione con gli altri e saremo continuamente vulnerabili alle offese e dipendenti dall'amore, quindi dall'amore di chiunque, di chiunque ci può in qualche modo dare affetto. Eventuali malattie psicosomatiche possono essere stati di tachicardia, purtroppo anche infarti, stati di ipertensione, aritmia, anche polmonite. Poi abbiamo il quinto chakra, il quinto chakra è invece chiaramente situato quindi qui nella gola e il quinto chakra è di colore azzurro e è il centro della comunicazione, quindi della capacità di saper comunicare le nostre idee, le nostre convinzioni, i nostri bisogni, i nostri desideri, i nostri sentimenti, ma è anche la capacità di saper dare e di ricevere, quindi stare in questo interscambio con l'altra persona. Il senso collegato in questo caso è l'udito, come parti del corpo connesse, quindi chiaramente avremo collo, ma anche quindi il collo, la gola, ma anche la mascella, l'esofago, la trachea, i bronchi, però anche le braccia, per esempio, le braccia e le orecchie, anche perché abbiamo visto il senso collegato e l'udito, quindi molte volte anche parti che possono, come ho detto prima, non essere inerenti ci sono perché magari c'è un senso collegato. Problemi al quinto chakra evidenzia un'incapacità della persona di aprirsi agli altri, di esprimere, aprirsi inteso come propria espressione, espressione di sé, dei propri sentimenti, delle proprie intenzioni, quindi la persona tenderà ad essere silenziosa, schiva, timida, riservata, a evitare comunque il contatto con gli altri. Spesso anche il balbettare evidenzia proprio un problema nella comunicazione, quindi collegato al quinto chakra. Eventuali malattie psicosomatiche possono essere anche un semplice mal di gola, quindi è noi non riuscire a esprimere quando ci si infiamma, perché magari abbiamo qualcosa che vorremmo dire che non riusciamo a dire. Può essere una tonsillite, può essere stati di affonia o perdita della voce, raucedine, tosse, bronchite, asma e così via. Però anche stati di sordità, perché abbiamo detto appunto che il senso collegato sono le orecchie, e quindi problemi alle orecchie possono creare sordità e quindi collegate al quinto chakra. Passiamo al sesto, il penultimo chakra. Il penultimo chakra si trova nel centro della fronte, è il nostro cosiddetto terzo occhio, il colore è indaco, è la sede delle capacità intellettuali alte, quindi di discernimento, anche della capacità di percezioni extrasensoriali. Le parti del corpo, in questo caso, come vediamo, più saliamo in alto, più per esempio l'elemento non c'è e viene a mancare anche la parte dei sensi collegati, perché comunque andiamo verso il sottile, quindi si perde questa distinzione. Le parti del corpo connesse sono chiaramente la fronte, gli occhi, il naso e il sistema nervoso centrale, in questo caso. Problemi al sesto chakra portano la persona a concentrarsi esclusivamente, diciamo, evidenzia persone che si concentrano esclusivamente su situazioni materiali e sulla ricerca di emozioni forti, cioè situazioni spirituali non vengono prese in considerazione in quanto ritenute poco importanti da queste persone, sono una perdita di tempo, quindi c'è solo un contatto con la materialità e quindi malattie psicosomatiche che si possono evidenziare possono essere dei tic nervosi, anche stati di paralisi facciale, e congiuntivite, tutti i problemi collegati alla vista, quindi che siano astigmatismo, insomma eccetera, e anche un raffreddore, anche una rinite può essere collegata comunque con una disarmonia del sesto chakra, e stati di allergia, di sinusite e anche perdita dell'odorato possono essere collegati a questo. Settimo chakra, e terminiamo l'escursus, esatto, il settimo chakra invece è la nostra corona, quindi si trova nel centro qui della testa, ed è di colore bianco oppure oro, e appunto come dicevo è la nostra corona, cioè è il ponte per la connessione con l'universo, quindi con il cosmo, con il tutto, diciamo che un settimo chakra armonico, ben aperto, permette alla persona di sentirsi parte di un tutto, al contrario chi ce l'ha chiuso chiaramente si sente completamente scollegato dal resto del mondo, e quindi è una persona che non lotta per il proprio benessere. ecco, molto importante infatti perché come abbiamo visto il primo chakra, questo è importante sottolinearlo, come noi, come l'uomo, sia un ponte, quindi tra la terra e il cielo, perché i nostri piedi, le nostre gambe sono il prolungamento del primo chakra, quindi sono le nostre radici, e siamo in contatto quindi con la terra. Il settimo chakra invece permette proprio la connessione con l'altro, quindi noi siamo un ponte, quindi abbiamo anche delle risorse importanti per poter lavorare su di noi, quindi da sfruttare insomma, ecco diciamo. In ultima cosa, e parte del corpo connesso chiaramente con il settimo chakra è il cervello, quindi eventuali malattie psicosomatiche, se c'è un settimo chakra disarmonico, possono essere anche forme di malattie mentali, e stati anche di nevralgia molto forti alla testa, mal di testa molto forti, emicranie e poi chiaramente anche eventuali cose più forti, però insomma ecco ci rimettiamo qua.